Il sinodo delle chiese metodiste valdesi, il momento in cui le comunità si ritrovano per prendere delle decisioni, quindi il massimo organo decisionale delle nostre chiese, un momento per gli adulti soprattutto, però in cui partecipano spesso anche i bambini, figli o comunque familiari dei deputati e dei pastori. Però l'idea di creare uno spazio appositamente per loro, per fargli vivere il sinodo in un modo un po' più adatto a loro, un po' più alla loro portata e più recente. Dallo scorso anno è stato organizzato un sinodo delle bambine e dei bambini, quindi un sinodo parallelo in un certo senso, in cui i più piccoli possono in un certo senso approcciare gli argomenti che vengono trattati al sinodo dagli adulti, ma con delle attività alla loro portata. A questo scopo è stata nominata una commissione, quindi un gruppo di lavoro e una serie di volontari che hanno poi curato le attività nel concreto. Allora già l'anno scorso in questo team che si è occupato dei più piccoli c'eri tu, Daniele Parizzi, e quest'anno ti ritroviamo insieme a Irene Cogno. Vi siete occupati di questa piccola squadra di bambini e bambini dai 5 ai 14 anni, quindi anche una fascia piuttosto ampia, per organizzare delle attività. Allora, in particolare, come si è tenuto? Partiamo anche dall'anno scorso, che cosa avete fatto e poi quest'anno se ci sono stati dei cambiamenti, degli aggiustamenti. Sì, ma esattamente come hai detto tu Sara, l'idea iniziale è quella di adattare, di tradurre in un certo senso lo spirito e tutto ciò che avviene dentro l'aula sinodale, ma anche attorno all'aula sinodale, anche per bambini e bambine. Principalmente sono stati tre i pilastri su cui ci si è concentrati. Un aspetto di incontro, anche forse di scoperta, di conoscenza, che di sicuro è stato molto forte anche poi nella sua traduzione del signore dei bambini. Una dimensione che forse è quella più prettamente sinodale, che è la dimensione della partecipazione, che è stata anche particolarmente valorizzata in forme e in modi che fossero adatti a bambine e bambine, ma senza sostituirci, ma lasciando totalmente spazio a loro di esprimere il loro pensiero con le loro parole. E infine la dimensione della spiritualità, della lode comune del signore, che è stata preservata sia in momenti specifici di cultini pensati per bambini e bambine, sia in un'attenzione più generale, ad esempio al canto e a queste varie pratiche. E quali sono stati un po' gli argomenti che avete trattato in quest'anno? Ci sono stati dei temi comuni, come è stato anche nel sinodo dei grandi? Allora, quest'anno sia per esempio sia nei cultini e sia anche poi nel lavoro che abbiamo fatto di partecipazione, diciamo il tema generale è stato quello della pace, anche in un periodo storico comunque molto sentito. Oltre a questo lavoro di partecipazione che abbiamo comunque curato e gestito io e Daniele con i gruppi, nella settimana abbiamo fatto delle attività, per esempio al Museo Valdese, con l'Amico dei Fanciulli, con il SIE e quindi ci sono stati anche degli esterni, delle persone esterne che sono venute da noi a fare un laboratorio delle attività con i bambini e con le bambine. Questo momento l'avete vissuto da volontari, ma anche in un certo senso da professionisti del settore. Voi vi occupate anche di bambini e di giovani, anche più grandi, anche in altre situazioni oltre al sinodo. Se doveste definire, insomma caratterizzare questo momento così particolare che cosa direste? Cos'è che rende il sinodo dei bambini speciale? E se doveste stimolare alla partecipazione il prossimo anno in cui speriamo che ritorni questa esperienza, che cosa direste? In primo luogo mi permette in realtà di fare una specifica Sara, e cioè che ci tengo a farla perché penso sia una cosa molto positiva. In realtà ci sono alcuni volontari che partecipano, ma io e Irene siamo, in realtà abbiamo anche ricevuto un riconoscimento, non siamo solo volontari. E perché dico che è una cosa molto positiva? Perché veramente la Chiesa Valdese, il metodista, ha deciso di investire anche da un punto di vista professionale, come dicevi te, nel senso anche a partire da competenze specifiche. Il lavoro pedagogico è ciò che facciamo anche fuori dalla vita delle Chiese, sia io che Irene. E quindi mi sembra che ci sia stata da parte della Chiesa una attenta riflessione sul fatto che questo spazio non dovesse essere semplicemente uno spazio di cornice che rimane un po' al di fuori, ma dovesse essere uno spazio importante, forse anche con un valore, con un'importanza nevralgica per la nostra Chiesa e che per questo gli sono state date anche le gambe, le forze necessarie per realizzarlo. Invece per rispondere anche a te, per incentivare la partecipazione, io penso che almeno il primo anno che ho partecipato quest'anno è stato davvero bello, è molto stimolante, stimolante per noi che lavoriamo con i bambini e con le bambine, ma anche per il gruppo tutto. Questa varietà di età in realtà è sempre un arricchimento, perché subito uno dice, ma come si fa a tenere insieme la bimba che ha cinque anni insieme alla ragazza adolescente che ne ha già tredici. In alcuni momenti magari ci dividiamo in due sottogruppi e anche più che altro per tarare a volte un po' l'attività, per renderla più comprensibile per le diversità. Ma spesso comunque, anche nei momenti di gruppo, è bello, arricchente, no? Gli spunti di riflessione. È stato molto bello, durante il culto di apertura noi abbiamo fatto un'animazione biblica, per esempio, ed è stato veramente un momento molto bello, arricchente, con tante condivisioni da parte di tutti e tutte, i bambini e le bambine, quindi questo per me. Io mi aggancio a quello che dicevi tu, l'arricchimento che arriva tra i bambini, tra di loro, le diverse fasce d'età, ma anche, immagino, a voi. Poi posso parlare anche per me, perché ho fatto l'animazione dell'Amico dei Fanciulli sia l'anno scorso che quest'anno, ed è stato effettivamente molto arricchente ascoltare le loro parole, i loro punti di vista. Allora, voi avete avuto un riscontro, loro vi hanno espresso qualche cosa rispetto all'esperienza che hanno vissuto, appunto, come l'hanno vissuta, che cosa ne hanno tratto, considerando che, diciamolo, magari ovviamente non tutti lo sanno, sono tutti bambini, figli di pastori o comunque di persone che sono direttamente coinvolte nel sinodo, quindi sono anche già formati su certi argomenti, che a volte sono loro che insegnano a noi. Quindi un po' qual è stato il riscontro, appunto, da parte dei bambini e bambine. Ma su questo io vorrei portare due cose che loro hanno condiviso con noi e che oggi avremo modo di condividere con tutto il sinodo, quando entreremo a portare alcuni lavori, in particolare una lettera che i bambini e le bambine hanno fatto per i sinodali. La prima cosa è che loro hanno, appunto, essendo probabilmente anche degli insider, hanno uno sguardo anche critico, ma nel senso proprio della critica costruttiva, cioè hanno un sogno per la nostra chiesa. E a dire questa cosa anche un po' io mi emoziono, perché ogni tanto invece sembra che fatichiamo a vedere oltre la nostra chiesa per come è adesso. E invece i nostri bambini e i nostri bambini hanno un sogno. E in secondo luogo, una delle proposte che porteranno è di istituire una vera e propria assemblea dei bambini e delle bambine. Cioè uno spazio in cui i bambini e i bambini possono far valere la loro voce. Per l'attività che presentiamo, per il lavoro di partecipazione che presentiamo in aula sinodale, siamo partiti da un racconto di Gianni Rodari che è il paese con l'esse davanti. E quindi abbiamo lavorato un po' su quello e sia i grandi e quindi sia i piccoli abbiamo appunto lavorato da quel testo. E coi piccoli abbiamo un po' immaginato quali altri oggetti potrebbero cambiare il loro uso quotidiano se ci mettessimo l'esse davanti e anche immaginare quelli descritti nel testo. E soprattutto ci siamo soffermati sullo scannone che è un cannone che disfa la guerra e per cui abbiamo proprio creato questo scannone con le loro idee che loro hanno detto che uno scannone risucchia le armi e poi spara invece fiori e fuochi d'artificio che creano la parola pace. E siamo riusciti comunque a creare uno che spara anche effetti speciali abbiamo in aula sinodale. Quindi è stato un bel momento. Quindi siamo molto curiosi di vedere il prossimo anno che cosa questo gruppo di bambini che si reincontrerà probabilmente perché i bambini ritornano di anno in anno e ogni anno sono più affiatati rispetto all'anno precedente più maturi più coesi quindi l'augurio appunto di ritrovarci l'anno prossimo al sinodo delle chiese metodisti e valdesi e al sinodo delle bambine e dei bambini. Grazie mille. Grazie.